Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia e studio Monica Pelliccia. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana in FIPILI. In FIPILI per lavori è chiusa l'uscita di Montelupo Fiorentino provenendo da Firenze fino al 16 settembre. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra con restringimenti, percorsi alternativi, sulla SP12 o per i viaggi più lunghi sull'autostrada 11. Trovate tutte le informazioni sui nostri canali social. Chiudiamo con il traffico ferroviario sulla linea Bologna-Prato fino a lunedì 2 settembre per lavori di potenziamento infrastrutturale. Il traffico sarà sospeso tra Prato e Pianoro. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!